Mi sembra che complessivamente tiene la Lega Pro. Nelle ultime giornate è andata migliorando anche la situazione dal punto di vista di Covid-19. Domenica è stata la prima domenica, dopo alcune settimane, le ultime, che era in fase di miglioramento e si vedeva dai dati. Domenica non c'è stata nessuna partita rinviata. Auguriamoci che possa andare avanti. Avremmo bisogno di un intervento di sostegno da parte del Governo e del Parlamento. Come ha già dichiarato il Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, lo stesso dato risulta a me, già la stragrande maggioranza della Serie C nel corso di queste settimane e questi mesi ha già pagato, quindi rispettando questa scadenza. Ritengo che non ci dovrebbero essere particolari problemi. mi preoccupano alcune società, ma questo dipende non solo dalla scadenza, ma dalla situazione in generale. Noi non abbiamo avuto problemi dal punto di vista dei recuperi, perché abbiamo programmato tutti i recuperi. Certo, determina una pesantezza dal punto di vista del calendario, però questo è recuperato. Il nostro problema era vedere come sarebbe andata la curva epidemiologica del Paese e verificare che cosa poteva succedere all'interno delle squadre di calcio. Questa era la preoccupazione. Se ci fosse stato o se ci dovesse essere, perché fin quando non usciremo questo elemento comunque rimane in piedi, una situazione dal punto di vista epidemiologico seria, allora bisognerebbe pensare. Il progetto di riforma deve essere del sistema calcio italiano. Sino ad ora si è parlato di ipotesi le quali non hanno una grandissima credibilità. L'ultima è stata questa vicenda che non credo approderà nemmeno in Consiglio federale da parte della Serie B su 21 squadre, eccetera. Bisogna che ragioniamo a sistema. Il calcio italiano ha bisogno rapidamente di andare in forma. E prima di tutto noi, non partendo dai numeri, perché mai dalla mia esperienza, che è dal 93 che sono nel calcio, mai si è fatta una riforma partendo dai numeri. L'unica autoriforma che si è compiuta l'abbiamo fatta noi. Nell'11-12 applicata nel 14-15 siamo passati da 90 a 60 club. Io non mi sono arrabbiato per la proposta. La proposta non ha una grande chance di esserne discursa. Perché se andate a vedere in realtà quella proposta, non va a intaccare nemmeno le retrocessioni, le promozioni. Perché parla di tre retrocessioni e di quattro promozioni. Vuol dire che quest'anno è 21, il prossimo anno è 22, quell'altro dopo è 23, poi 24, 25. Perché mi sono arrabbiato? Per il ragionamento che ho fatto prima. O si ragiona insieme, o che non è materia in cui ognuno guarda dal buco della serratura il suo problema, oppure per motivi elettorali, e si comincia a ragionare veramente al sistema nel calcio italiano, o se no ogni processo di riforma non va avanti.